Il Milano che studia a New York e le scompazza da un mese, Maria Ferla. Ok, ok, ok. E questa ragazza quanti anni ha? Venta anni. E quanti anni? Dice quando fu l'ultima vez che la chiedi? Un mes. Dite un casino, una cosa sta scoppiando un gran casino, aiutami. Ho capito, non ti preoccupare. Sì? Grazie, Lidia. Ciao, ciao. Era la policia italiana, che quería pensare? Me stai spiando? Me sento allà al frente e quando parla italiano mueres molto le mani. Estudiante di intercambio di Milano, Maria Ferra, 20 anni, su padre non la può localizzare. No è di persone desaparecite? Sì, però è stato con lo di protesta. Il inspector Rossi è un mio amico, le devo alcuni favore. E il tuo amico italiano mi ha dato distanza per iniziare? Sì, il padre crede che vivia con un amico cerca di Stai. Grazie.